Orate al forno all'arancia. Una ricetta semplice, ma da risultato garantito. Desquamate le orate, privatele dell'interiora, sciacquatele e tamponatele con carta assorbente. Dividete le arance a metà, spremetele, ricavate nel succo e filtratelo. Tritate il prezzemolo, dividete uno spicchio d'aglio a metà e privatelo dell'anima. Sbattete l'olio con il succo d'arancia ottenendo un'emulsione. Aggiungete l'aglio e il prezzemolo, mescolate e lasciate riposare qualche minuto. Sistemate il pesce in una teglia, cospargetelo con gli aromi per arrosto, ricordandovi di metterne un po' anche nelle pance. Versate un po' di succo sempre dentro le pance e poi sopra il pesce e lasciate riposare 10 minuti. Ancora qualche fetta d'arancia, un po' di scorza e poi dritta in forno per 25 minuti a 200 gradi, irrorandolo col suo succo di tanto in tanto. Il pesce è pronto, non vi resta che portarlo in tavola e servirlo. Ed è davvero buonissimo! Buon appetito! Io mi assaggio un po' anche adesso. Buon appetito!